Salve a tutti ragazzi, bentornati su di tutto un tubo. Oggi proviamo un gioco che è praticamente appena uscito, è uscito da qualche giorno, aspettate che mi sono incartato con il cavo, e si chiama Expedition a Mad Runner Game. Praticamente è uno, non chiamiamolo proprio uno spin-off, non è neanche un seguito, praticamente riprende quelle che sono un po' le meccaniche appunto di SnowRunner per fare un gioco un po' più che va verso, come si può dire, il trasporto di cose, fare spedizioni, fare esami nel territorio, è un po' più ecologico, ecco, se vogliamo metterla da quel punto di vista lì, e si discosta un po' per anche alcune meccaniche, le cose da fare praticamente sono sempre le stesse come in Mad Runner, però c'è questa diversità che questo gioco segue un po' quello che è più la natura, diciamo, no? Dobbiamo, invece che dover portare dei pezzi per costruire pozzi di petrolio e costruire queste cose qui, queste sono più spedizioni, ecco, non è un vero e proprio magari trasporto da A, magari dobbiamo mettere dei sensori per sentire i terremoti, queste cose qua. Però andiamo al gioco, ok? E noi ci cominciamo il nostro bel tutorial. Allora, abbasso la musica. Ok, sento che è un po' interessante. Allora, io tra l'altro farei anche una cosa, la musica la toglierei proprio perché mi dà fastidio. Allora, audio, togliamo un po' di musica. Oh, ecco, voglio sentire più che altro i... Oh, allora, cioè, praticamente abbiamo acceso il nostro bel camion. Ok, spero che sentiate abbastanza bene il rumore del camion. Rumore bello. Allora, dobbiamo andare fino a quel punto lì. Abbasso un po' il mio di audio perché se no muoio. Come vedete, il funzionamento è simile a quello di Mudrunner, Snowrunner, è molto simile. Allora, dobbiamo arrivare qui. Stage complete. Dobbiamo andare all'altro punto. Allora, andiamo all'altro punto. In teoria dovrei poter togliere il... la freccettina. Adesso cerchiamo di capire. Ah, semplicemente col tasto sinistro se io clicco entra la freccia, se io lo riclicco entra la visuale. Molto comodo, molto comodo. Ok, allora, vedete che comincia a fare fatica ad andare avanti. Ok, adesso ci spiegherà come funzionano le varie modalità di guida, praticamente. Allora, vediamo. To move further, you need to engage the AVD. Ok, mettiamo la AVD. Che si fa? Shift e... Ok, vedete? Ah, si può anche soltanto premere... però con Shift ci fa vedere i tasti. Ok. Quindi c'è il coso, oppure il 4x4, il differenziale. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo andare in quel punto là. Vedete? Che se no, altrimenti non riusciremo a passare in questi punti qua. La fisica è una figata. Avete visto che abbiamo distrutto una ruota? Abbiamo fatto un danno. Ok, siamo completamente bloccati. Quindi adesso praticamente dobbiamo premere Shift e andare con le marce più corte. Ok? E... E... E premere Q per attivare il differenziale. E così riusciamo a staccarci. Ci sblocchiamo. Ma facendo così consumiamo un sacco di benzina. Perché? Infatti vedete che consumiamo tipo 6 litri all'ora... 6 litri al minuto... 8 litri... No, al miglio penso che sia. Penso che sia al miglio. Non avrebbe tanto senso. Se noi invece non usiamo queste modalità qua consumiamo... consumiamo molto meno. Ok. Ok, allora dobbiamo... Aspettate un secondo. Allora dobbiamo enter Exchange Mode. Ok, per comprare cose. Allora... On the left is your vehicle inventory. The right is the source area. Select this item and add to the vehicle... Ok. And close the menu. Quindi devo prendere questo. Fare invio. Passa dall'altra parte. E usciamo. Ok. Hold and shift in the auto mode. Ok. Perfetto. Premi S to reverse. Ok. E torniamo indietro. Ah! Abbiamo preso la roba per mettere a posto la macchina. Il camion. Non la macchina. Ok. Dobbiamo andare lì. Perfetto. Cosa dobbiamo fare? Adjusting the pressure depending on the type of the terrain. Reducing the efficiency of the terrain. Ah! Pure. Allora. La fare. Quindi facciamo così. Ah! Ma che figata! Che figata! Quindi se io faccio così. Vediamo se cambia. Aspetta eh. Per uscire. Ah! 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 Ecco. Forse così è meglio. Non diventa rosso là sotto. Ok. Ok. Riusciamo a muoverci. Bene. Bene. L'experation we take a cross for this we have a fuel canister with you. Ok. Ehm. CTRL. Spazio. Ok. E abbiamo fatto la benzina. Ah! Ok. Ok. Molto bello. Molto bello. Ok. Stage complete. Bene. If your vehicle is damaged, use per parts to repair the damage. Ok. CTRL. Damage component. Ah! Ok. Non so cosa sto facendo. Ah! Questi sono i gearbox. Engine. Possiamo farlo con questo. Questo possiamo farlo con questo. Ma questo no. Ah! Ho capito. Qua ci vogliono proprio le ruote. Figo, figo, figo. Molto figo. Stage complete. Deliver the... Ok. Select. Ehm. Trucks. Eh... Take a list one track. Ok. Eh... C'è questo. C'è questo. Non ce n'è altri. Questo schifo qui. Allora, inventory. Io direi che dobbiamo comprare della roba. Perché altrimenti... Garage. Come si compra la roba? Abbiamo altre cose? Abbiamo solo questo. Il Tuts. 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 Ehm... Truck Store. Eccolo qui. Allora. Ah no. Però qua non compriamo... Qua compriamo le macchine. Sì. Qua compriamo le macchine. Ehm... Collection Truck Store. Collection. Forse non si può comprare ancora qui. Non si può comprare ancora qui. Ok. Inventory. Ah! Ecco. Allora. Ci dobbiamo comprare. C'era scritto questo. Madonna qua. Quanta roba. E... Questo. Assolutamente. 50 litri. Per part... Questa qui è quello che abbiamo sul camion. Abbiamo una ruota. Io però due ruote le prenderei. E anche un po' di pezzi. Ehm... Questo cos'è? Set the anchor on any flat surface to get a new anchor point to the winch. Ah! Bello. Io spero che sta roba ci rimanga anche dopo. Professional filming equipment. Record footage. No vabbè. Per adesso non ci serve. Qui c'era un punto esclamativo perché penso che sia una questione della... Della missione. Current track. Ok. Se io faccio così cosa succede? Devo dargli l'ok o mi ha già comprato tutto? Ah no. Forse mi ha già comprato tutto. Ok. Vediamo. Perfetto. Select. Select. No. Ok. Come faccio a partire? Remove. Map. Back. Ok. Si può partire? Deploy. Deploy. Dove deployiamo? Operation base. Start expedition. Oh. Prima spedizione. Vediamo un po'. Dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare là. Per adesso. Allora. Hold next action. Trade. Qui non vedo più la roba. Non so perché. Inventory. Base module. Vabbè. Ce l'avremo su, no? No. Winch. Ok. Inventory. Cannot be used. Vediamo se ce l'abbiamo qua. Ehm. 50. 100. Ne ho due. 150. 50. Ne dovrei avere due però di. Di queste. Perché non ce le ho? Devo be used from inventory. Aspetta. 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 Fammi tornare indietro un attimo. Devo capire una cosa. Devo capire una cosa. Ehm. Fuel. 50. Sì. 100 litri. Allora. The main source. Ok. Se io faccio ok. Fuel. 140. Gas tank. The main source of fuel for a truck. Canister. Some of all spare fuel can in this vehicle. Ok. Questo è una gas station. Gas tank. Non capisco se li avevo presi. Ah vedi. Sideboard. Ok. Sideboard. Sembra che ci sia però. Vabbè. Vediamo dopo dai. Ehm. Wheels. 2 di 3. Wheels. 2 di 2. Se io faccio così. Ne prendo un'altra. 3 di 3. Ok. Se io faccio così. 140 su 140. Non ho capito cosa sto facendo. Se sto pagando o no. Drain. Drain. Boh. Vabbè. Andiamo. Allora. Dobbiamo andare della. In ex vision. Use the minimap for this. Ok. Open minimap. Va bene. Dobbiamo andare qua. Ok. Ah. Possiamo mettere il punto. Allora. Delete last waypoint. Ok. Add a destination point. Skip time. Back. Close. First expedition. Your first assignment. You have to go to the mountains and install a radio module. That will improve the signal quality of the base. But be careful. The road is not easy. Ce l'abbiamo la. Il modulo radio. Ok. Io non l'ho mica visto. Non so se ce l'abbiamo. Drone. Winch. Binocular. Eco sounder. Vabbè. Andiamo. Magari fa. Magari ce l'abbiamo già nel. Nel camion che ce lo dà la missione. Allora. In questo momento siamo in automatico. E andiamo abbastanza. Bene. Ok. Se cominciamo a incastrarci. Ok. Poi metto il. Ok. Adesso dobbiamo andare là. Use the eco sounder to determine the depth of water bodies you are about to cross. Ok. L'eco sounder. Tab. Ok. Dov'è cazzo è? Qua. Ok. Quindi vuol dire che il verde. Pare che non dovrei neanche andarci io nell'acqua. Ah sì. Devo andarci nell'acqua. Dangerous water level. Ma era verde. No. C'era scritto verde. Quindi in teoria. Allora. Prima di tutto ci siamo già incastrati. Quindi. E. Q. Vediamo se così va. Ok. Vediamo. Ok. Allora finché è verde c'è speranza. Ok. Ah. Ecco. Ho capito come funziona. Allora. Questo. Radio station. Radio can't be transferred. Resource zone. La radio mi scelto via radio ways. Eh. Quindi. Non dirmi che non l'ho presa. Eh. Non l'ho presa mi sa. Porca vaca. Sta a vedere che devo tornare indietro. Perché alla fine non l'ho presa. Vabbè. Sta a vedere che alla fine non l'ho presa. Allora. Dobbiamo andare a vedere. Magari non l'ho presa. Molto probabile. Molto probabile. Però non me lo diceva. Pensavo che mi portassi ad andare a prenderla. Allora. Qui. Io. Non vedo niente. Ah. Questo è la modulo. E questa è la. Eccola qui. Non ho abbastanza spazio. Oh cazzo. E quindi. Ma. Ma si che c'è l'ho lo spazio. Ah. Oh cazzo. E. Oh cazzo. E. Come faccio? Perché vanno i sideboard. E io sideboard li ho riempiti. Ok. Quindi. Come faccio a toglierli da qui? Non è che ha spiegato molto bene però eh. Vorrei toglierli. Boh. Togliamoli. Ho tolto una ruota. Ok. Ah. Da qua. Ok. Quindi adesso dovrei poterla prendere. Perfetto. Eh. Dobbiamo stare attenti a prendere le cose giuste. Pick up the item. Radio station. Ah. Però me lo dice anche lì eh. Radio station. Una sola. Però l'ho presa adesso eh. Vabbè. Proviamo. Poi magari non l'ho presa prima e adesso. Poi dopo me la dà. Vediamo. 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 Ti senti sto motore? Come viaggia? Ok. Allora so che possiamo andare tranquillamente. Allora. Facciamo così. 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 E si si immerge. Vai. Con tutta la potenza. Guarda che potenza. Ecco. Ho già rotto le ruote. Trade. Ok. Trade. Sideboard. L'ha fatto? Exchange. Exchange. Sì. Transfer. Transfer. Madonna. Ma perché fanno le cose così. Così complicate? Allora. Ma secondo me mi sa che. Secondo me mi sa che avevo sbagliato qualcosa. No. Aspetta. Me l'ha fatto. Non si capisce niente. Non si capisce niente di come funziona sta roba. Allora non dovevo prenderla da là. Perché me la dava qua. Non lo so. È fatto veramente male. Ma molto male. Non si capisce niente nel menu. Ok. Stage complete. Explore the nearby mountain using the drone. Ok. Allora. Vediamo se l'hanno fatto. Ok. Shift. CTRL. Va su e giù. Ok. Almeno questo l'hanno fatto decente. Ok. Devo andarci solo sopra. Devo fare cosa. Ok. Fatto. Exit the drone. Continue to research using the vehicle. Exit the drone. Vabbè. Lo faccio così. Exit the drone. Va bene. Ce l'ho ancora il drone? Si ce l'ho ancora. Allora. Devo rimanere in questo set qua? O posso... Vabbè. Adesso siamo sul piano. Posso anche toglierlo il coso. Ok. Magari consumiamo un pochettino meno. Beh. Oddio. Più o meno. Ehi là. Calma. Ok. Stato completo. Allora. Usa il winch per rinforzare il tuo veicolo. Fuori di problemi. Attacca il winch naturalmente sui tuoi ancorsi e puoi. Ci sono dei punti di winch comuni e usi. Sassate di attaccare e poi puoi presciare per attaccare. Ok. Noi attacciamo. Winch connetto. Ok. Quindi. Pusci. Io puscio. Eh. Guarda come puscia. Guarda. Guarda. Guarda che si fa su. Guarda che si fa su. Vabbè. Abbiamo capito come funziona. Allora. You can also find the winch in the device menu. Ok. Tipo qui. Noi ci attacchiamo. Tipo qua. E andiamo dove vogliamo. Ok. Tipo. Se noi ci attacchiamo qui. Facciamo così. Vedo che non puscia un cazzo però. Ah. Aspetta. Pull. Ah. Pull. E push invece spinge. Ah. Ah. Io facevo. Facevo un altro. Ok. Perfetto. Install the radio station. Andiamo. Mettiamo le ridotte. Va 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 come si arrampica. Bello bello. Mi piace. Mi piace. Mi piacciono sti giochi tranquilli. Dove fai i tuoi lavori. Senza nessuno che ti rompe le palle. Oh. Stage complete. Che dobbiamo fare? Deliver supplies. Allora. Allora. Sometimes in expedition. We have to complete. Quest item deliver. Ok. Deliver. Bello bello. Piace. Stage complete. Allora. Binocular. To explore. Find. Map. Ok. Allora. Oppure. E' per la minimappa. Dobbiamo andare qua. Add destination point. Ok. Cosa devo fare? Devo guardare col. Col coso. Devo guardare col binocolo. Allora. Tab. Binocolo. Ok. Devo guardare verso di là. Immagino. Ok. Ok. Abbiamo preso il coso. Bene. Adesso devo tornare qua. Sì. Devo tornare qua. Allora. Using a drone. You can. Spare. An expo. Part of the map. Ah. Ok. M. Ok. Prendiamo il drone. Devo andare di qua. Ok. Ho scoperto un airdrop. Vediamo di non finire in acqua. Bad signal. Ah. Cazzarola. Troppo lontano? Ah. Devo esplorare l'area. Cioè l'area totale. Però non devo arrivare fin là. Giusto? No. Bad signal. Ok. Posso devo spingermi un po' di qua. 88. 91. 93. 95. Ah. Devo girare a turno. No. 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 Aspetta eh. Magari di là. Andiamo indietro. Cos'è questo? Non si sa. 95. Altro posto. Eh. Ho fatto tutto il giro. Sarà una zona ancora... Vediamo. Non posso uscire. Mappa. Ehm. Allora. Devo esplorare questa zona. Praticamente. Explore the area. Ok. Riproviamo. Riprendiamo il drone. Ok. 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 Magari non ho esaminato bene questa parte di qua. Vediamo. Non c'è uno zoom. Ah. Magari di qua non ero andato. Vediamo un po'. No. Bad signal. Attenzione. Ah. Magari di qua. No. Perché c'ho bad signal. Magari più giù. Sono a 95%. Eh. Matotto. Matotto. Ok. Fatto. Ok. Prossimo punto. You can recover your vehicle to fill base. Ok. Open minimap. Find and choose the fill base. Then use recovery. Quindi use recovery. Come faccio usare recovery? Recover to the base. Skip time. At this initial point. Let's. Eh. Use recovery. No. Feed operation. Field operation. Base. Track. Recovery free. Recovery. Ah. Ok. Spedizione completata. Get reward. Item. Blah blah blah. Va bene. To the headquarters. Devo capire bene poi come funzionano le spedizioni. Eh. Allora. Facciamo. Allora. Questa l'abbiamo fatta. Nearby areas. Facciamo nearby areas. Requirement. Metal detector. Ricordiamoci di comprarlo. Eh. Select. Select. Prendiamo. Perché c'è il punto esclamativo in alcuni. Non so capire. Device. Roof. Metal detector. Metal detector. Ah. Ok. Ah. Ma ha fatto mettere metal detector così. Ok. Ah. Con questo qua ci. Andiamo alla grande. Allora. Fuel. Add to slot. Ok. Ah. Perché qua c'è soltanto il. Il coso. Ho capito. Invece posso fare vendi. Spare part. Ah. O prendo le spare part. O prendo le ruote. Ico. Allora. Aspetta. Sell. Eh. Io direi che prendiamo. Prendiamo. Ci sentiamo fortunati. Prendiamo solo i pezzi. E basta. Eh. Rear. Stock. Bumper. Roof. Front. Rims. Ok. Chissà se cambia qualcosa. Reinforce. Stock. Standard. Ehm. Vedi. Stock. Bumper. Abbiamo questo. E infatti abbiamo. Slot. Quindi vuol dire che è su. Fill slot. Rear. Roof. Eh no. Rear. Roof. Eh no. Aspetta. Ehm. Emergency reserve. Rear. Rear. Roof. 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 Ci dà tre slot. Ah. Se mettiamo meta detector. Non abbiamo più slot. Stock bumper. Rainfosset. Ok. Forse ho capito eh. Forse ho capito. Engine possiamo cambiarli ma è tutto bloccato. Fine tune. Praticamente andiamo un pelo più veloci. Tutto quanto. Ok 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 ok. Forse ci siamo. Quindi direi che si parte. Però non abbiamo. Ah però vedi l'inventory. Devo ancora mettere la roba nell'inventory. Allora non ci serve il metal detector. Eh. Ehm. Quindi. Wills ne abbiamo. Sperpart ne abbiamo. Io. Prenderei comunque. Una. Non me lo fa prendere. Perché non me lo fa prendere. Pre payment. Ah. Inventory. Ah. Giusto. È vero. Sideboard. Invece ce l'abbiamo già completo. Eh. Inventory. Inventory. Questo me lo prendo lo stesso. E questo me lo prendo lo stesso. Che. Non si sa mai. No. 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 Questo no. No. Questo no. Ok. Ci stiamo capendo qualcosa eh. Ehm. Diferenziale lock. Tanco. 80 litri. Recovery cost 1000. Ehm. Dovremmo esserci. Così facciamo la customizzazione. Ok. Dovremmo. Dovremmo esserci. Quindi adesso facciamo. Back. E deploy. Ok. Noi possiamo fare il deploy. Select deploy zone. External outpost. Allora. L'abbiamo selezionato? Non ho capito se me l'ha selezionato. Vabbè. Andiamo. E si parte. Ehm. E pure buio? Ah no. Allora. Hold. Trade. No. Ok. Dovremmo già essere a posto. Perché io qui non posso comprare. Can be transferred. Perché non abbiamo più spazio. Non possiamo metterlo. Spare part. Can be transferred. Can be transferred. Lo store invece. Niente. Ok. Direi che si parte. Allora. Ah. Dobbiamo costruire. Allora. Dobbiamo costruire. New. Build. No. Che figata. Bene. L'abbiamo costruito. Ok. Possiamo fare trade. Non possiamo fare trade. Bene. Quindi. Use a metal detector in the specified area. Ok. Quindi adesso. Noi dobbiamo andare. Nel punto che ci dice. Dove dobbiamo usare. Il coso. Quindi noi dobbiamo andare verso di là. Di là. E per trovare la strada. Dobbiamo. Dobbiamo trovarci la strada. Per arrivarci. Io so che. È più o meno di là. Noi siamo davanti. Allora. Qui non mi dà nessun indizio. Su dov'è la zona. Quindi. Se io uso il drone. Ad esempio. No fly zone. Ah. No fly zone. Va bene. Allora. Io direi che scendiamo da qua. Con calma. E vai che ci siamo già incartati. Ah. Non ho il. Ok. Ci siamo scartati. Eh. Però. Anche tu. Ok. Allora. Allora. Ci sarà una strada. Cioè. Non dico una strada. Ma. Una specie. Di passaggio. Meno impervio. No. No. Io proverei a passare da qua. Vediamo un po' com'è l'acqua. Ok. Ok. Ecco. Che ci siamo già impantanati. Lo sapevo io. Allora. Pool. Grande. Ci siamo spantanati. Ok. Allora. Andiamo. Eh. Release. Andiamo da che forse. Andiamo. Allora. Eh. Allora. Ecco. Boh. A posto. A posto. Boh. Finita la nostra missione. Quindi. Devo fare così. Devo fare così. No. Qua. E recovery. Ok. E mi ha preso dei soldi. Immagino. Ok. E devo solo ritornare là. Ah no. Aspetta. Eh no. Questo è ancora rotto. Azzarola. Store. Eh. Me le fa comprare adesso? Sì. Ok. Me le fate comprare. Non so se le ho pagate o no. Però. Qualcosa mi ha fatto comprare. Ah. Perché forse è un. Un cosa. Ah. Aspetta. 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 Un'altra roba. Non so bene cosa sto facendo. Ma lo sto facendo. Ah ma aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ah. Sto creando dei. Dei. Degli essential storage. Praticamente. Ok. Allora. Proviamo a passare da qua. Secondo me quella cosa dell'acqua non era stupida eh. Di passare da lì. Solo che ho avuto un problema tecnico. Quindi occhio perché. Perché. Ma porca. Di una porca. Dai. Pushami. Dai. Pushami tutto. No. 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 Uh. Madonna mia. Madonna che casino. Ok. Ci arriveremo eh. Ci arriveremo. Con calma ci arriviamo. Allora. Qui forse riusciamo a entrare in acqua. Io volevo passare di là. Poi magari non è di qua la strada eh. Solo che non è che c'è una strada. Dai. 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 Dai che ce la fai. Dai. Guardalo. Vai vai vai. Grandissimo. Allora. Dobbiamo andare verso di là. Allora. Si scende. Allora. Qui c'è tutta acqua. E questo è un bel problema. Come cazzo? Non ci arrivo io là. Ah. Potrei forse passare. Non ci riesco a scendere. Eh. Bisogna vedere la profondità dell'acqua. Eh no. Eh no. Eh no. Secondo me dobbiamo. Vediamo cosa ci dice la meppa. La meppa. Ci dice che. Gold mining. Eh. Addirittura. Ci dice che. Ah ma qua devo andare. Ah. Ma scusa eh. Ma devo andare qua? Ma scusa ma devo tornare a. Al punto del. No c'è qualcosa che. Metti il freno a mano. Ma scusa eh. Ma se io vado qua allora. Non lo faccio prima. E dove c'è il punto. Se io faccio recovery. Ah. Eh. Vabbè. Allora tanto vale. Ma va che figata. Ah. Allora aspetta. Mi ha visto. Che c'era della roba di qua. Giusto? Mi ha visto che c'era qualcosa di qua. Cioè tutte le volte deve fare sta cacata. Ehm. Allora. Detect. Sì ma cosa devo trovare io alla fine? Ah. Ok. Ho capito. Oh cacchio. Di qua non si passa? Vediamo se si passa di qua. Ok siamo quasi nella zona eh. Andiamo di arrivare in centro. Ok. Eccolo lì. Eccolo lì. Green, blu, red. Ok. Green, blu e red. Quindi questo l'abbiamo trovato. Get upgrade. High range gearbox with an increased gear count. Oh yeah. Allora. Ok. Ma ci stiamo impantanando. Ok. Andiamo via. Vai, pull Pullami tutto Grande Come mi pulli tu Ok, allora Altro punto Vabbè, andiamo a fare quello lì Quello lì, blu Dai però, dai Ok Eh, eh Segnale blu Segnale blu Occhio, occhio agli alberi Allora, stiamo andando giusti? Sì Vai, vai La velocità non ce la dice neanche il gioco Dai, su Arrampicati Che ce la fai Dai Guarda come va su Guarda come va su Ok Adesso non so cosa sia Ah, ho scoperto un herb drop Trade Eh, io me lo ciuccio Senti, ecco la riflessione Ok No Ok Perfetto E adesso E adesso Torniamo in giù Attraversando Quella roba lì Spacchiamo tutto da qui Vediamo Eh, mi sa di sì Ah, non ho visto che era Ok Aia Piano Simo Piano Eh, addirittura Inderappata Allora Allora, l'altro punto Mi sembrava fosse da ste parti Eccolo qua Piano, piano Che c'è l'acqua E dai Ok Continua Gas station Ah, ok Posso riempire finché Questo non è pieno Ok Ok, ho capito Questo qui è il gas tank Ok Quindi adesso io sono Full Ah, ho capito Quindi adesso Io potrei O tornare Ehm Ecco Tipo adesso Dov'è che dovrei andare Perché io non ho fatto Return to headquarters Allora Recovery Questo è free Airdrop Moduli Quindi se io faccio Ah, ok Di lì Quindi se faccio così È free Perfetto Ah, return to headquarters Se invece voglio stare qui A fare qualcos'altro Tipo non so A Andare a cercare qualcos'altro In giro per la mappa Posso Posso farlo Qui non abbiamo niente Questo è il base module Questo è lo store Dove si può comprare la roba Ma non ho abbastanza spazio Potrei fare così Ok Oppure così Oppure così Ok Però io così Li ho tolti E come potrei Rimetterli Inventario Sideboard Non posso mettere Niente Fuel 80 82 Non c'è più spazio E l'inventario Non c'è Praticamente Forse li ho tolti Facendo così Vabbè Pazienza Quindi io faccio Return to headquarters Ok Perfetto E mi riporta Qua Ho fatto due spedizioni Questo è il pagamento Spedition complete Dovrei passare A questa qua Ok Proviamo Requirement Jack screw Anchor Ok Devo andarmi a riaprendere Jack screw Anchor 1 e 1 Vediamo Allora Aspetta Allora They say The notification The camp cannot be Constable track Go there and check it out Just don't forget To take the complete To with you Track off road Watery terrain Ah Watery terrain Allora Prendiamo qualcosa Di alto Prendiamo questo Prendiamo questo Allora Ah Vedi che adesso Me lo dice Ok Prendiamo questo No 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 50 litri Prendiamo Di sideboard Spare part No Uno in meno E prendiamo Una ruota Perfetto E stiamo così Anche perché poi Non c'è più spazio Price 750 E direi che va bene così Abbiamo l'inventory Con le parti che ci servono E possiamo fare Esc Abbiamo degli upgrade Che si possono fare Qui 32 su 54 Ah no Non possiamo farli Quindi facciamo così Questi li abbiamo Deploy Start Vediamo dove ci Vediamoci dove ci mette Go to the Point Get to the point Allora Get to the point Ecco Devo già andare là Ma scusa eh Ma perché non mi metti là Mannaccia A te E allora Torno qui Devo stare attento A dove faccio Il deploy Quando parto Allora If you Overturn Then open The inventory Where you find The jack screw And use it To put your car Back in its wheels This item Is a little number Of charge And the only worst In the track Is overturn Ok Ah devo proprio farlo Ok Non ho capito Vai fuori dal campo Bene Vai nel Coso Nella Nella palude Vado Vado nella palude Ecco Guarda che Ci rubaltiamo Subito Ok Passa la palude Ok Vai E' basso E' basso No Ah Già che possiamo Anche Vediamo forse così va meglio allora if you want to use a winch but there is no cover the anchor can be placed on non stony ground ah ok quindi praticamente io adesso sono incastrato qui faccio così uso l'anchor use tipo lo metto qua poi faccio così e e vai a fare in culo e pull se ce la fa non ce la fa non ce la fa non ce la fa e non posso pusharlo no ah si ok ok allora aspetta proviamo passiamo da un'altra parte allora lascialo provare a passare da qua ok tu pullami già oh perfetto no 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 pullami ancora pullami pullami tutto ok ma adesso quello mi rimane nell'inventario o come si dice vediamo ah forse mi rimane sempre ok ah boh abbiamo già finito ah volevo farci vedere come che funziona per per girarci ok forse si bene bene ottimo perfetto heavy shipping allora ragazzi io direi che possiamo fermarci qua ok interessante devo dire molto interessante come gioco lo giocheremo ancora perché a me piacciono questi giochi abbastanza rilassanti no che poi magari ti fanno anche bestemmiare in alcuni momenti perché magari non riesci a capire da dove devi passare e niente se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi abbonatevi andate nella descrizione trovate tutte le informazioni per supportare il canale quindi grazie della visione da di tutto in tubo e tutto e ci vediamo alla prossima ciao ciao